cari amici allora oggi siamo qua per una recensione su questo set particolare da calligrafia vedete della caveco ok che poi insomma giunge proprio fagiolo questa cosa io proprio l'altro giorno ho recensito delle caveco sport ecco recensite due questo è il modello in alluminio e un'altra normale ok che questa qua una caveco sport così normale resina blu ok questa in alluminio e poi ho detto sarà mia cura recensire poi ho fatto vedere anche un attimo questo set che mi fu regalato qualche anno fa da amici carico ovviamente sanno cosa mi interessa ecco io poi appunto ho detto farò la recensione successivamente del set da caveco quello per calligrafia solo che poi nel frattempo ecco la cosa che voglio dire che c'è questo stile grafico romano cerca di adattarsi un po le esigenze di quelle che sono le persone interessate che ci chiedono le cose se possiamo si interviene anche in maniera piuttosto repentina visto che poi diciamo il quesito è stato posto solo ieri sera quindi mi sembra mi sembra una cosa abbastanza fatta proprio in tempi rapidi allora di cosa si tratta che praticamente che appunto io poi faccio questi video io ne do un quantitativo abbastanza elevato al buon riccardo affinati e poi lui si occupa della programmazione secondo i tempi che reputa e le frequenze che reputa più opportune no però a questo punto intervengo io direttamente appunto mettendolo poi direttamente su facebook per rispondere appunto a questa persona perché secondo me è importante visto che insomma il set ce l'avevo già disponibile un conto se dovevo procurarmi ok ma ce l'avevo a casa quindi l'ho fatto in tempi rapidi allora niente tutto deriva dal fatto che Maurizio Capriccio aveva postato un video di una ragazza che recensisce penne io non la conosco americana credo che parlava delle cinque penne che insomma le hanno dato meno soddisfazione nel corso insomma degli ultimi tempi e a uno dei primi posti c'era proprio questo sette ne hanno poi sono andato a vedermi il video ne ha detto abbastanza peste corna no al che però niente siamo alle solite allora personalmente io non seguo nessun recensore americano ne seguo pochissimi italiani perché proprio gli americani mi danno fastidio già con la loro parlata sguaiata ma anche perché non ce n'è praticamente solo uno che che scriva bene che mi faccia vedere insomma non non li trovo per nulla interessanti e questa ragazza mi ha dato purtroppo ancora una volta ragione no perché oltre alla sguaiatezza del suo modo di parlare non mi ha fatto vedere nulla ci ho parlato male delle penne ma non ho visto una penna scrivere allora come ho già detto mille volte quasi mi arrabbio quando lo dico e lo ripeto cioè devono parlare le penne non il recensore ok perché io non posso stare due ore a farvi vedere l'unboxing lunga cosa e passare tre secondi scrivendo malissimo magari con una penna addirittura calligrafica ecco queste cose cancelliamolo e spegnete il pc andate su un altro caraccia non esistono quelle cose davvero ecco mi ha fatto veramente incavolare quella ragazza lì ieri sera e volevo fare quasi sta cosa poi subito però ho detto vabbè la faccio domani meglio ma vedete che sono proprio nervoso perché veramente sono stanco di sentire queste porcherie pure ok non ho altro termine per per diciamo quando vedo quelle cose fatte così giusto per parlare male di qualcosa poi se c'è un problema tu me lo fai vedere cioè io quella penna che non scrive la voglio vedere cioè ma non puoi solo dire fa schifo perché c'è questa e questa e non vedo ok allora forse sono sempre fortunato io che mi vanno quasi tutte bene non credo perché se ci sono dei problemi lo dico vabbè comunque andiamo a vedere questa cosa qua si tira questa niente contiene ecco vediamo qua contiene quattro quattro punte diverse da uno e uno due tre quindi un range abbastanza inconsueto perché sono quasi sempre a a tre punte quindi qua abbiamo abbiamo un discreto range e poi sono semplicemente queste qui sono queste penne adesso andiamo a vedere si tira questa cosa c'è questa cosa sarà cinesca così simpatica e poi c'è anche un mini un mini una mini guida per la calligrafia ecco questa mi sento dire che fa schifo ok giusto ma non le penne adesso andremo a vedere ma perché perché innanzitutto non riesco a estrarla ok le cose che bisogna dire negative diciamole ma deve esserci un senso cacchio qua non riesco a estrarla e quindi come faccio a leggerla che non riesco ad aprire vedete devo mettermi con la testa tutta girata di lato ma neanche riesco a vedere e proprio non esce proprio è incollato quindi porcheria mi spiace caveco ha fatto un po' una cazzata passatemi il francesismo ok modelli modelli calligrafici vedo insomma spiegano cosa si può fare modelli calligrafici che fanno schifo questa non è una cancelleresca è uno schifo andiamo avanti poi non mi dice niente di come si fa poi passo avanti ci sono dei modelli qua andiamo avanti insomma in tutte le lingue ci sono due modelli cancelleresche un'altra cosa un corsivo strano allora sono non sono cose fatte a mano sono dei fonti da pc ma fatti così non ci non ci faccio un tubo perché se non ho il ductus ovvero il tratteggio cioè la consecuzione dei tratti che mi genera la lettera di sta roba io gli dico a uno fammi sta roba ma ci metterà dei mesi per capire come faccio è una cosa senza senso quindi potevano evitare di mettere sta roba che non ha proprio alcun senso poi due scatoline di cartucci di cortesia poi ci sono le quattro punte e ahimè come spesso accade sempre in questi set c'è solo un corpo scrittura cioè c'è solo una penna completa poi hanno messo questa sorta di cappucci che io li chiamo volgarmente preservativi perché per me sono solo quello che si mettono sulle punte così per per diciamo conservarla e far sì che non si secchi ok ma adesso non voglio perdere altro tempo la prova la facciamo questa è la sua originale poi ho caricato un'altra punta di queste qui su una caveco sport per avere insomma la possibilità di usarla ecco io poi vi consiglio magari compratevi le penne perché stare a cambiare calzare sto cappuccio non lo c'è sì caveco è uno dei pochi che ha pensato a quel problema però in una maniera veramente secondo me abbastanza indegna ma andiamo adesso che vi ho insomma fatto questa premessa andiamo a vedere le penne che quello che mi interessa così rispondiamo anche quella brava ragazza che diceva che faceva uno schifo allora questa ho preso le punte più grandi ma perché perché le punte più grandi ecco vedo che c'è un livello forse esagerato di scuro metto un attimo diamo ok così si vede un po meglio anche la la i vari colori ok si vede che blu una blu una nera ok la nera è quella di default della del pacco lì della del set ho messo le punte più grandi 2 3 1 e 9 perché gestire una punta grande è sempre più difficile allora prima cosa che volevo dire alla ragazza ma tutti stiamo parlando di un pennino calligrafico quindi non è uno stab è un italico e lo vediamo andiamo a ingrandire così ce lo gustiamo da vicino ok allora italico vuol dire sottilissimo e poi spesso ok ho visto degli italici migliori quello sì quindi ma no ma non non parlo di questo che il 2 3 e di default viene così perché la misura della punta questa linea potrebbe essere anche la metà diciamo non è propriamente non è un non è un perfetto rasoio però 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 va bene no cioè se io devo devo scrivere in in canceller esco un 2 3 una bella misura ecco questo ha senso queste lettere perché voi vedete il video e vedete come le tracce allora questo ha senso se io avessi da disegnare una mini dispensa dovrei fare questo lavoro non quella porcheria che ha fatto caveco ma che la fanno anche tutti gli altri uno peggio dell'altro dove dire che questo è il primo movimento poi c'è quest'altro e poi c'è la chiusura e ottengo la lettera ok questo è il lavoro che si fa si chiama destrutturazione delle lettere quindi 1 2 3 e ottengo questa ok e così via ok questo è il modo serio di agire ma le aziende che fanno penne non ci capiscono un tubo di calligrafia e quindi continuano a gestire un'ignoranza colossale detto questo torniamo a noi sono incavolato allora la penna fa schifo non posso usare allora questa penna si usa così e posso fare tutto quello che voglio posso fare una carolina facciamo una carolina la scrittura di carlo magno prima che qualcuno mi dica hai dimenticato il puntino sulla u facciamo anche cultura carolina vuol dire ottavo secolo carlo magno l'anno incorenato la notte di natale dell'ottocento mi sembra non c'era il puntino sulla i arriva sul mille 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 cento il puntino sulla i per capire meglio la textura la gotica quadrata ok quindi era proprio così vedete che posso fare quello ecco questa è una penna che però io adesso lo faccio e lei lo fa perché comunque è una buona penna ma non è fatta per scrivere correntemente l'italico l'ho già detto allora ci vanno gli stub ci vanno i brocci vanno altre altre cose ma questa penna me lo fa ma non nasce per fare questa cosa adesso non è mancato ma ho saltato io l'appoggio e lo rifaccio vedete lo fa vedete mi segue bene benissimo guardate che bellezza porta male l'inchiostro questa pena non credo proprio se nostra roba non me lo fa cioè ok nessun problema ma nessun problema veramente ok promossa a pieni voti no perché se questo fosse stato un po più sottile magari proprio un pelino più sottile l'avrei preferito però sicuramente mi da soddisfazione riesco a lavorare poi se uno avesse una buona mano e non fa dei casini può anche affinarlo un po su una carta diciamo una pietra d'alcanza insomma però se uno non ha tanta manualità evitate però si potrebbe anche migliorare questa cosa qua anche con un file da te andiamo all'altra penna l'altra andrà ancora meglio ma perché perché è più piccola e la misura inferiore 1,9 ok ah tu le penne non le ho caricate con la cartuccia ma esistono dei comodi mini converter purtroppo una penna piccolissima però preferisco il converter ho montato il converter chiaramente devo montare il cappuccio se no non riesco a gestire la penna allora più piccola la penna più facilità a fare questo lavoro qua quindi posso fare calligrafia e ritorniamo in grande ok facciamo un onciale anzi facciamo un insulare che è la scrittura che sto insegnando in questi giorni qua grazie a tutti guardate che meraviglia questa è una penna che va male ragazza mia non lo so impara a scrivere poi potrai dire che la penna è una schifezza allora facciamo velocemente un abecedario anche qua ok eccolo qua ok stiamo su un campo più aperto di zoom ok eccolo qua allora questa qui in compenso è un sottile un po' più buono poca roba diciamo un sottile un po' più accentuato di quello quindi va un po' meglio per la calligrafia pura niente le penne sono qua conclusioni è una penna che secondo me va molto bene non bene va molto bene io sono un super pistino di questo cioè l'ho sempre detto allora il top di queste penne però non c'è più esattamente come i penini penini flessibili erano le Osmiro di inglese ma non ci sono più si trovano però su ebay qualche volta qualcuno le fa fuori tutto il resto si assomigliano molto sarà mia cura poi farvi vedere perché questo è un set che costa penso sui 60 euro non ho idea quindi non è poco quindi però sono 4 punte contrariamente alle 3 che ci sono in giro però ad esempio vi farò vedere nei prossimi giorni con calma un altro set che ho trovato non sto a dirvi che cos'è ma costa veramente poco poco più di 20 euro e a 3 punte va veramente molto molto bene forse addirittura meglio di questo ma ha solo 3 punte e mi ha sorpreso veramente anche quel set perché va veramente bene non mi aspettavo che andasse così bene però si equivalgono molto compresi anche quelli cinesi alcuni cinesi mi danno dei risultati molto similari ecco però non mi sentirei di dire che il set calligraphy da Kabeco fa schifo non fa schifo va bene ok poi tutto è migliorabile tutto cioè anche le penne più blasonate però siamo sempre al solito gradirei e non me ne frega se qualcuno si incavola cioè quando si va a dire una cosa su una penna su una penna eminentemente calligrafica e queste lo sono vorrei e gradirei che i pregi e i difetti me li tirano fuori persone che le usano veramente cioè dei calligrafi perché uno che non sa scrivere in maniera calligrafica cioè mi può dire il 30% di questa penna ma non il 100% perché non è in grado veramente di usarla mi dispiace dirlo ma è così perché poi si pensa che quella penna possa essere utilizzata convenientemente come una tranquilla stilografica qua una Opus 88 ma non è una Opus 88 una penna questa è un pennino normale e quindi va in un'altra maniera cioè sono due cose questa è una penna per tutti questa non è una penna per tutti esattamente come un pennino flessibile che sia veramente flessibile ma mi sono stancato di dirlo questa cosa torniamo su queste cose qua allora poi si parla male di alcune penne ma cioè non è che la caveco mi paga però sentire delle cose che non le penne non meritano ecco ho detto boh devo fare sta roba scusate un po' l'accensione del mio a volte fumo quando sento delle cose che veramente non hanno né capo né coda ok veramente quindi chi lo vuole acquistare non sta comprando una cavolata non è una schifezza però ci ci sono altre robe sul mercato che possono costare anche meno però sinceramente io non non credo che questa cosa qua sia un brutto set o addirittura una schifezza ecco assolutamente no niente con questo vi saluto scusate ancora un attimo lo sfogo ma secondo me insomma c'erano tutti i motivi veramente per sfogarsi un attimo dopo aver sentito delle cose veramente così stupide ok niente vi ringrazio come al solito e alla prossima ciao a tutti